Anticipazione il segreto. Lunedì 27 gennaio 2020. Esther parla al telefono e diventa improvvisamente cupa e nervosa. Dall'altra parte del cavo le viene comunicata una brutta notizia. Lei però riesce a celare abilmente il suo malumore. Prudenzio e Isaac restano sconvolti dai comportamenti della ragazza e si rendono conto che ha tentato di sedurre entrambi. Dolores non si fida della nuova arrivata. In aggiunta a ciò un equivoco la porta a fare cattivissimi pensieri. Franziska sta molto male per la sua città che entro un mese verrà allagata. Perderanno terra e proprietà. Severo e Irene intanto fanno di tutto per cercare una valida soluzione. Per tutti si tratta di un'assurdità, di una vera e propria ingiustizia. Nel frattempo Morales affida un compito molto importante a Meriton e cioè informare tutti i proprietari terrieri che entro qualche giorno verranno cominciate le operazioni di esproprio. Grazie a tutti.